Articolone sul tempo che vi devo leggere. Allora, gran pasticcio nel rapporto sui decessi per l'Istituto Superiore di Sanità, gran parte dei morti non li ha causati il Covid. Cioè notare che questo articolo non è di un giornale complottista, ma di Il Tempo. Il Tempo scrive questa notizia oggi perché la data, la vedete qui, oggi è 21 e qua c'è scritta la data 21. Vediamo cosa dice. Secondo il nuovo rapporto che non veniva aggiornato da luglio dall'Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità per Covid, il virus che ha messo in ginocchio il mondo avrebbe ucciso assai meno di una comune influenza. Sembra un'affermazione strampalata e da Novax, ma secondo... Aspetta che vi grandisco un po' l'immagine... Ma secondo... Dove ero rimasto? Ah, ma secondo il campione statistico di cartelle cliniche raccolte dall'Istituto, solo il 2,9% dei decessi registrati dalla fine del mese di febbraio 2020 sarebbe dovuto al Covid-19. Quindi dei 130.468 decessi registrati dalle statistiche ufficiali al momento della preparazione del nuovo rapporto, solo 3.783 sarebbero dovuti alla potenza del virus in sé. Solo 3.783 su 130.000. Capito? Perché tutti gli altri italiani che hanno perso la vita avevano da una a cinque malattie che secondo l'Istituto Superiore della Sanità, dunque lasciavano già a loro poca speranza. Addirittura il 67,7% ne avrebbe avuto insieme più di tre malattie contemporaneamente e il 18% almeno due insieme. Ora, personalmente, conosco tanta gente, ma è l'autore dell'articolo che normalmente parla, ma nessuno che abbia la sfortuna di avere cinque malattie gravi nello stesso tempo. Vorrei fidarmi dei nostri scienziati, poi vado a leggere i malagni elencati che sarebbero ragione non secondaria della perdita di tanti italiani e qualche dubbio da profano comincio sinceramente a nutrire. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il 65,8% degli italiani che non ci sono più dopo essere stati infettati dal Covid era malato di ipertensione arteriosa e cioè aveva la pressione alta. Il 23,5% era anche demente, il 29,3% aggiungeva ai malanni un po' di diabete, il 24,8% aveva pure la fibrillazione atriale e non basta, il 17,4% aveva già i polmoni ammalati, il 16,3% aveva avuto un cancro negli ultimi cinque anni, il 15,7% soffria di scompenso cardiaco, il 28% aveva una cardiopatia ischemica, il 24,8% soffriva ancora una volta di fibrillazione atriale, più di uno ogni dieci era anche obeso, più di uno su dieci aveva avuto un ictus e altri ancora, sia pure in percentuale più ridotta, aveva avuto problemi gravi al fegato, dialisi e malattie autoimmuni. Non so se arrendo, sarà tutto vero, non metto in dubbio i nostri scienziati, ma se non è il virus ad uccidere gli italiani, allora mi spiegate perché la scienza ha imposto tutto quello che abbiamo visto in questo anno e mezzo abbondante, dalle mascherine al distanziamento, al lockdown e così via? E come facevamo ad avere quasi 126.000 italiani ridotti in quelle condizioni con 3, 4, 5 malattie gravi, destinati comunque ad andarsene se anche non fosse mai esistito il coronavirus. In poco tempo, quei numeri sarebbero un atto di accusa clamoroso nei confronti del sistema sanitario italiano, da cui pure provengono uso il condizionale, perché qualche dubbio ho su quel che viene scritto fin dal primo giorno in quel rapporto, che risente come ogni comunicazione dell'Istituto Superiore della Sanità e del CTS, delle direttive coordinative fornite via via durante i mesi, che sono stati il vero e unico faro di quelli che continuiamo a chiamare scienziati. All'inizio il governo allora in carica, quello di Giuseppe Conte, mentre l'Italia mostrava di essere il paese del mondo più impreparato eppure incapace di affrontare la pandemia, chiedeva dati per tranquillizzare gli italiani. E ricordo bene le conferenze stampa settimanali dell'Istituto Superiore di Sanità e della Protezione Civile, in cui questi decessi venivano sempre minimizzati, ponendo sempre l'occento sulle molte patologie riscontate in chi non ce l'aveva fatta. Bisognava dire che questo video non uccideva in sé, ma accompagnato ad altri malanni in persone fragili, poteva affrettare una fine che comunque era vicina. Poi in periodo di campagna, già soltanto questo aggiungo io, basterebbe a non fare una vaccinazione generale indiscriminatamente, ma appunto a vaccinare soltanto e soprattutto i fragili o chi sta a contatto con le persone fragili. Ecco, poi in periodo di campagna vaccinazione l'esigenza governativa è diventata quella diametralmente opposta, cioè drammatizzare e spingere chiunque verso la salvezza delle fiale messe a disposizione. Ma si sono dimenticati di aggiornare le istruzioni sul rapporto mortalità, che a seguito nella sua pubblicazione sempre più diratata nel tempo è mai tambureggiata l'impostazione data all'inizio. Una gran confusione dunque, che alimenta anche paure e rigidisce resistenze ancora di qualche milione di italiani, che alla vaccinazione ha scelto di sottrarsi. Forse con un po' meno di propaganda e meno rigidità e più informazione corretta, tutto questo non sarebbe così. E quindi, meditiamo, gente, meditiamo.